Il raffinato Io invece vorrei il gusto per il raffinato, il meno segnato Perché poi alla fine queste cose devono durare nel tempo Perché più lo caratterizzi, più invecchia Mi è capitato di disegnare delle cose che nascono per un progetto di architettura In genere oggi il mercato è molto più fornito E quindi parti da analisi ben più sostanziose dal punto di vista del marketing O da esigenze delle aziende Quindi è una roba un po' più complessa Ti capita qualche volta che da un'idea di un'edilizia Di un'esigenza di edilizia che hai Poi vengono fuori dei concetti che riporti Però è un progetto C'è l'idea e poi c'è una grande fase di evoluzione Di sviluppo che poi alla fine non c'entra più niente È stato proprio il punto dove è nata l'idea Si è acceso la lampadina Dici perché non posso svilupparla Però in genere ormai le tecniche in mercato Io lo vedo noi nello studio Chi fa architettura non fa design Quindi sono due mondi separati Sì, sono due piani diversi Pensavo che avessi più contaminazione tra l'uno e l'altro No, c'è nello sviluppo no Perché le problematiche sono sostanzialmente diverse Quando io ho cominciato Facevo tutto io E c'era molto più facile Allora, io sono ancora quello che fa tutto Ci sono dei momenti in cui la parte architettonica viene coinvolta O invece la parte design viene coinvolta Però è per definire qualcosa O dare una mano Ma non che Cioè voglio dire se devo fare i rendering Me li fanno quelli che fanno design Perché sono più veloci E hanno una mano di un certo tipo La stessa cosa è se abbiamo bisogno Di certi Quando abbiamo progettato le tende Ad esempio certe esigenze Che venivano dall'architettura Tutta una collezione che chiamiamo urban Molto più monolifica Dei slab Cioè delle mensole Devevano essere degli elementi architettonici Molto definiti Molto puliti Non disegnati fino a se stessi In quella collezione Ad esempio la parte architettonica è entrata Però è sempre una Vivono insieme Vivono insieme Quindi c'è una È abbastanza osmotico Cioè l'aria che respirano I due dipartimenti Ce l'hanno Però La mia generazione nasce Che non c'era una scuola di design Io ho fatto l'unica scuola Che c'era quella di Milano Però io ho fatto anche architettura Mi sono formato Gli architetti Cioè il design italiano È stato fatto negli anni 70-60 Da architetti E quindi avevamo un approccio Ben preciso Che era dato dall'architettura Oggi ci sono scuole Di design E quindi l'approccio Che hanno i giovani È molto diverso Di quello che avevo io Di quando mi sono formato Non sto a specificare Quale delle due Sia migliori Io Sono molto legato All'architettura Perché è di quella Che vivo Cioè E quindi Qualsiasi cosa La leggo in chiave Più architettonica È chiaro Che magari sono meno Libero nella forma No? Sono meno libero nella forma Perché uno Tu lavori sempre In senso di architettura Mentre Il design È molto più legato Quasi alla scultura Perché oggi Gli strumenti che tu hai Sono più legati Quasi alla scultura Che all'architettura Però Puoi modellare Qualsiasi forma In effetti oggi Diciamo che c'è Molta architettura Che sta somigliando al design No? Sempre di più Sì E questo mi preoccupa Mi piace Th البop! E questo mi preoccupa Pergre 了 CheRO